La comunità favarese è scossa per la morte di un giovane di appena 20 anni, avvenuta a causa di un terribile incidente stradale nel pomeriggio. La vittima è il 19enne Antonio Restivo, che si è schiantato con la sua autovettura a pochi metri dallo stadio Bruccoleri, dove gioca la locale squadra di calcio. L'amministrazione comunale questa mattina ha proclamato una giornata di lutto cittadino in occasione dei funerali del giovane che si terranno alle 16 presso la chiesa di San Francesco. Il sindaco ha rivolto un messaggio di solidarietà alla famiglia, dilaniata dal dolore per l'improvvisa perdita di un giovane che era molto apprezzato in paese, amante dello sport e era anche conosciuto per il suo impegno verso le persone in difficoltà, le quali non faceva mai mancare il suo conforto. Siamo affranti per la perdita di Antonio, ha scritto il sindaco Antonio Palumbo. In questo momento terribile non possiamo che stringerci al dolore dei familiari. Non ci sono parole. Questa tragedia lascia l'intera comunità favarese attonita. Sulla dinamica del terribile incidente ci sono ancora molte cose da chiarire. Gli investigatori infatti non riescono a spiegare le cause del tremendo impatto con il mezzo pesante che era fermo sul ciglio della strada.